Let's play Vacanze, Mamidio e tutto il resto Mamid non proprio vacanze perché sta comunque lavorando Non è che sta facendo Non è che sta giocando però Prendetele come vacanze, che ne so O cose del genere Comunque l'uso vuol che cos'è? Una modalità dove si usa l'uso e devi fare gol E tipo il calcio, cosa del genere Tipo Cacchi si chiama Tipo Il nome del gioco De macchine e del calcio Cacchi si chiama? Oddio Rocket League Ecco, tipo Rocket League Però con l'uso su ovo Non puoi picchiare la gente Purtroppo, vabbè Puoi solo fare gol, devi Proteggere la palla Che stronzo Ha preso il gol come uno scemo In realtà È stato lui bravo Perché io Non l'avrei potuto mai prendere Me l'ha buttata dall'altra parte L'ha avuta veramente perfetta la pasta qua Mamma mia che culo Andiamo un po' Dai Non so se vorrò solo una partita Ma non credo Ne vorrò due Perché una comunque è poco Dura abbastanza poco come modalità Quindi Due partite le faccio Dai Questa è la prima Mamma mia Mamma mia sta palla però Ah con la ulti Potremente niente Ecco Diventi più veloce Puoi usare più volte La skill Della spinta qua Il pulse Diciamo Che culo Mi sa che l'ho buttata via Dalla porta Cosa fa che La palla Niente Ho usato la ulti A cacchio di cane Eh vabbè pazienza Ah ragazzi Se andate sui muri Diventate Molto più veloci Ma molto 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 Oh cacchio Ok Che culo che Ma molto più veloci Non so per questa cosa Però E' comoda Quando Quando serve Ci stiamo prendendo tante ammazzate Però pazienza Tanto comunque Sti cacchi I summer games Sono quasi finiti E c'è anche la nuova modalità Cioè Cioè C'è La Giuse of all ranked Praticamente Fai il ranked Quindi Come Le ranked normali Ma qui E che cosa hai in più Praticamente Semplicemente ti danno I soldi viola Ma alla fine Che sono quelli Per comprare Gli armi d'oro Quindi Ti danno Quei soldini lì Che comunque Avere Gli armi d'oro E figo Quindi Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta tantissimo Mamma mia Che gol Che gol Che gol Sono troppo forte Io C'è C'è Troppo forte Sana Ma Comunque La cosa migliore Di questo gioco Cioè Il segreto Diciamo E Aspettare Perché Se Tu aspetti Se sei paziente Riesce ad avere La palla perfetta Tirare In modo perfetto Diciamo Preparare In modo Non è Tanto semplice Perché Diciamo Che L'hitbox Della palla Un po' strano Quindi Non sempre Riesci A preparare Bene Non so Perché L'hitbox Della palla Un po' strano Dai Dai No Odile Stupido Come Avete Vieni Visto Ho Ho usato Il pulse Solo che Non me l'ha contato Perché L'hitbox Della palla Non l'ha preso Non capisco Perché Come era lui L'ha rifatto Non lo so È un po' strano L'hitbox Non so Cos'è Che ha Cosa che non va L'hitbox Che è un po' Buggato Non ho n'idea Autogolle BAM Come vedete Basta aspettare Che fate i gol Così Dovete aspettare La palla giusta Per segnale A caso Palla giusta BAM Sempre di rimbalzo Perché I rimbalzi Sono la cosa migliore Adesso Se non ci fanno Il gol In questi due Secondi C'è l'overtime Cioè Il primo che fa gol Vince Il golden goal Praticamente Overtime Appunto L'overtime Non c'è ovunque Cacchio Sto cazzo gioco E sapete Che io Nell'overtime Perdo sempre A caso E' il destino Che dice Che devo fare Così Oddio Quando c'è uno Che ulta Dovete spazzare La palla Più lontano possibile Oddio Spazzate Sta cazzo di palla Oh vabbè Ragazzi Non ce la faccio Proprio oggi Ha avuto Sta cazzo di palla Via BAM No Sarebbe stato Un bel gol Bellissimo C'è segno Fantastico Abbiamo vinto Ragazzi Da 0 a 2 A 3 a 2 Mamma mia Siamo troppo forti Troppo forti Cioè A meno Sono troppo forte Che alla fine Sto gol Per me L'ha fatto Ho fatto Un asis Perfetto Ma come Lui L'ha proprio Dico L'ha proprio Di game L'ultimo gol Che è fatto Sì Guarda L'asis Perfetto Quello è il scemo E la palla È andata perfettamente La BAM E niente Ragazzi GG Facciamo l'altra Ma si È andata perfettamente